Mi aveva parlato da entusiasmo, prima doveva fare, aveva coinvolto, mi disse che aveva coinvolto altri tre grandi registi mondiali, che lui erano amici suoi proprio. Poi dopo loro tra l'altro c'erano, dice, ah sì che bella idea, fai un film sul Covid, delle storie, fai un film episodio, poi dice, poi questi a un certo punto si siano persi, e la produzione ci ha detto, ma perché non li fai te, lo fai da solo? Allora mi sono messo a scrivere, ma sa che l'altro, perché lui c'era questa cosa, che pur essendo uno dei più grandi registi del mondo, dice, sa che mi è venuto, ma sa che l'ho scritto bene? Guarda che ho scritto, sì, ho scritto questo film, veramente guarda sono bravissimo, è venuto fuori proprio, vittorio, mi confondo, Paolo che vuoi, certo che sarà bellissimo, ah sono proprio contento adesso, mi faccio da solo, e che mi importa, adesso faccio, parto, eccetera, e ci siamo lasciati proprio quest'estate con questa cosa.